Gianmarco Centinaio, la lettera che Matteo Renzi ha mandato ai deputati del PD secondo voi è sintomo di una maggioranza che non è così proprio compatta, perché? Perché non riteniamo politicamente forte il fatto che il Presidente del Consiglio che su tutti gli organi di informazione si fa vedere come l'uomo importante, l'uomo forte della politica italiana, l'uomo delle promesse, l'uomo che ha in mano il proprio partito debba all'alba del voto, soprattutto del voto segreto su alcuni emendamenti, debba inviare una lettera ai propri senatori per ricordare loro quanto è importante questo voto sulla riforme e quindi in questo momento storico pensiamo che il buon Matteo Renzi sia un pochettino in difficoltà. C'è margine di trattativa su qualche emendamento? Ma sì, perché noi l'abbiamo detto sin dall'inizio, noi non siamo l'opposizione becera che sta chiusa nel suo angolino aspettando solamente una caduta del Presidente del Consiglio, se cade meglio, però se il Presidente del Consiglio decide di confrontarsi con la Lega, la Lega è pronta, è pronta a parlare, proprio perché noi non siamo i caderegari come ci disegna lui, noi non siamo quelli che siamo il no a priori, noi abbiamo fatto delle proposte, delle proposte importanti, delle proposte serie che arrivano anche dal dibattito del nostro congresso e dalle discussioni con i nostri militanti. E quindi, signor Renzi, se vuole parlare con la Lega sa dove trovarci. Quali i paletti della Lega su cui non farà mai un passo indietro? Beh, sicuramente la possibilità di dare voce ai cittadini attraverso i referendum, non si può obbligare i cittadini a raccogliere milioni di firme per poter presentare dei referendum, sicuramente sui trattati internazionali, noi vogliamo dar voce alla gente, dar voce al popolo, che la gente possa dire se è a favore o contro quest'Europa. Sicuramente il fatto di non togliere ulteriori poteri alle regioni, Renzi ha svuotato di contenuti le province e le ha chiuse, vuole svuotare le regioni per chiuderle, noi saremo un argine a questo tipo di politica renziana che non ci piace.